salve tutti come vedete ci siamo prova della open meta di Final Fantasy Nissidia NT vediamo sto video direi anche no ma non ci ho ripensato comunque ok Final Fantasy Dissidia NT io ripetisco ma bene ok prima devo specificare una cosa per correttezza l'unico Final Fantasy che ho giocato io di aperto è stato l'otto per la PS1 altri non giocati non conosco il mondo di Final Fantasy di personaggio conosco Squall quello che ho giocato appunto nell'otto non so neanche se c'è non ho mai giocato un Final Fantasy Dissidia e sono ignorante completo per quanto riguarda questo gioco ma proprio ignorante completo combattente sei qui per dignità costruita con questo mondo virus e materia sono i loro nomi e il conflitto e la loro vocazione ah così qui si fanno guerra per sport ok va bene ok questo cos'è che sono queste cose inizia il camion questa scelta a quale potere correrà in battaglia e quindi devo selezionare un potere va bene allora non vedo niente però ah per te in modo casuale ecco questo che mi dai chi è e tu chi sei Alexander chi sei cos'è non non lo capisco non capisco cosa sei allora questa fortezza di luce sei movente ok purifica all'istante il campo in battente ci mando le forze ostili Laura divina di Alexander ti aiuta a proteggere pv e audacia effettivamente prima probabilmente incrementa la barra pv incrementa la barra pv e la difesa ma prima e dopo va bene ok io non so niente non so neanche i tasti scusate e sia ora che mio servo ti guidi eh sì che cosa che cosa sei tu ah i moguri ah non so che invece combattere solo fai ah ok quindi io sempre combattere appunto ok va bene ok ma bene può chiamare cupo per favore si spiegami le basi ok cerchiamo di capire un attimo ok ok come no io volevo io ho detto io ho detto di sì ah ok tutor ok quindi devo scegliere il combattente ah io sto punto se c'è squall io prendo un squall oh squall Leonardo oh è l'unico dell'unico fatto infatti fan fantasy 8 classe grado 1 classe bronzo è e va bene va bene con la pistola a spadono allora cerchio fatato cos'è ruota del tetto non mi fa niente verticale se immaginare allora aspetto a in genere allora vediamo cos'è bioga felice magna continui agli avversari colpiti ah non è l'igiene normalmente ha degli alleati circostanti va bene piazzano tra poco che tra gli avversari no 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 io direi questo 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 poi aspetto estetico mercenario balamb per forza così e va bene ok chat assetto a assetto b assetto c per vabbè io non so che boh va bene ok si va a scuola e ciò alexander e che questo ciò va bene cos'è eroe ignoto ragazza ignota dragone ignoto noi siamo ok direi livello base io proprio sono movimento visuale cominciamo il personaggio per saltare pieno allora ok ok va nooo battaglia sana ok va facciamo per favore proviamo dai cominciare l'accelerazione ah sono due scuola e un coso ok ok io va a pigliare quello non è che ci sono altre che cosa boh 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 vai ok andiamo ma 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 che cosa ma quello scappa thank you boom ne questo c'è cerchio fatato ok 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 oh ah questo si salta ok con questo si attacca vai boh boh ma quello oh ma va bene ok dov'è oh alzati attacca il nucleo che cosa attacca il nucleo ci ho capito un cacchio allora va a pigliare quello vado a prendere quello boom boom ok poi all'alzati allora assimila i jung chun vado ascutando questo ah va ok boh ho presentato qualcuno non so per sbaglio vai bene 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 ora bordo cosa attacchi in il corpo tu sorella attacchi in il corpo allora io oh oh uee alzati Io non capisco che devo fare Io meno Vai Boom 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 Ok Oh perché l'apreto? No Vai Mena 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 No Oh porca Boom 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 Io non so che cosa Pura tua mamma Che cos'è? Sorgi obbedisci Che cosa? Che succede? E' arrivato Alexander E' arrivato Alexander Eeeh Alexander ha fatto una roba Non so cosa Intanto meno Vai Non ci sto capendo molto Però va bene Dai E Mena Niente Non Non ci sto capendo niente Vai Mena Boom Tanto C'era qua Alla fine è questo Bisogna Do Al fine Bisogna Benare Eeeh Può essere divertente Io non sono Vai Non capisco perché Ah Via Boom 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 Ma quanto ci vuole ammazzare questi? Non muore mai Boom K.O. Uno è K.O. Uno è andato Uno è andato Ma quanto ci vuole Eh però se ti alzi Oh Vai Oh Lo sta Lo sta Lo sta Rezzando Che è Ifritt Che cos'è What a Eeeh Eeeh Che sei brutto Eeeh Cosa Ma 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 Io non ho come te panna Di chiamare qui Ma Perché sono tre di nuovo Non Boh Io Boh Perché sono tre di nuovo Vai Bene 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 Dai Vai Va Bene 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 Boom Boom Che successe Oh Ma Ma Oh Ma che cosa No Non ci sto capendo molto Non ci sto capendo molto Io E' una volta Poi ma Finisce mai Uno non era morto Uno dei suoi Non l'avevamo mandato K.O Uno dei suoi Che era Si può arrezzare In questo gioco Boom Olè Vai Boom Boom Vai Boom 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 Mena 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 Lo Boom E questo Rigener Boom Bella Menata Dai che uno è Quattimato Uno è Quattimato Boom Boom Uno è K.O Boom Boom Da che Ma 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 risorgono sempre Allora E allora Che cosa Meniamo a fare Vai Boom Boom Ma Vai Boom Mena Boom Nga 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 Io non riesco a capire Chi sta vincendo e perché Non riesco a capire Oh Alzati però Ok Bo Bella Tutorial Concluso Abbiamo vinto Ah condizioni vittorie Mi sa che dove c'è Ora Condizioni vittorie Una battaglia standard E come Mi prende Anka Allora 6 pv Un personale Ziano Questa vince La barra salute Della squadra Perde un segmento Ok Mi metà È standard Vinci se riesci a ridurre La salute Della squadra Per se rende Un tempo Ok Finché la barra salute Resta almeno Un segmento Puoi tornare in campo Quando vinci Il ca Spostare il punto Più adatto E premi Inx Per intere Ah Ok Va bene Indietro Caccia al nucleo Condizioni vittorie Che la caccia al nucleo Attaccando il nucleo Per se Si dice La barra costituzione Si dice Si dice Spuotare la barra Ah Ok Va bene Va bene Ok Allora Io direi Basta Torniamo Alla selezione La modalità Dai Proviamo 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 Tutte queste modalità Eh Intanto C'è una pitruzza Che fa Allora Battaglia online Campagna Tutorial Già fatto Battaglie locali No Inizioni Configura Adopzioni Tesori Ah Io direi Campagna Ok Io ho appena scoperto Che la campagna Non posso mostrare Perché il mio automatico Mi blocca la registrazione Perfetto E allora Proviamo le online Battaglia classificata Singolo Squadra Sì Da Di squadra Proviamo Intanto Una di squadra Se me la fa fare Una campagna Non la fa registrare Va bene Vi farò Vi mostrerò Qualche No Quello che tendo a fare È una partita Di squadra Penso Quelle di squadra Siano più Più diventanti Anche da vedere Vediamo un po' Cosa ti riesce A tirare fuori Ok Ecco di classe Vabbè Io No Scendi in campo Vai Non si vende automaticamente Sì Va bene Dai Ti scende Il mio squadra Vengono si vende automaticamente Io Sempre Squall Perché sì Perché Ripeto È l'unico Final Fantasy Che ho giocato Qua va bene così Cerchio fattato Questo qua Che mi chiama Cupo Io Sto Specie Di Gatto clown Che mi chiama Cupo Già comincia A darmi sui nervi Devo essere Molto sincero Però vabbè Vediamo insomma Cosa ne viene fuori Vediamo cosa ne viene fuori Vediamo cosa ne viene fuori È lunga Dai Forza Ce la faremo Prima o poi Io confido In te Credo In te E che ce la faremo Sì Sì Attendi tutti i combattenti Io l'attenderei anche volentieri Però non ne sta arrivando uno Sì Sì Saremmo sei Saremmo sei Secondo quella lista Alla destra E io So quanto pare Soprò Attendo tutti Io l'attendo Però La musicetta è carina Per carità Però vorrei anche giocare E non posso neanche uscire Non posso neanche uscire Come Conferma Conferma Oh Eeeh Signore io aspetto Mentre ci sono Io perché vedo Ne vedo tre lì Ne vedo tre Vedo sei Sì Ne ha tre contro tre Qualcuno non ha accettato Non saprei Io Boh Mmm Eeeh Qua sta diventando Un po' imbarazzante La cosa eh Va bene Ok Ci risiamo Allora Abbiamo visto Proprio squadra Non andava molto Ora riproviamoci Proviamo in singolo Magari Prendono legnati Inenarrabili Però Almeno ci proviamo Come una sconfì Eeeh Sti gran Cazzi Se non Ho Abbandonato Perché noi altri Non si muovevano Allora Sì Vabbè Ok To Squall Sì 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 Va bene Koopa 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 Perché altri Compagni di combattimento Ok Quindi tutti i combattimenti Ma Fisto Sono Sarebbe bello Poter giocare Ma senza sempre Solo caricamento E qua Non mi fa Giocare E adesso Oh Oh Bene Sì fatto Ehi che Che chi vuole Possiamo giocare Grazie Per favore Adesso Devo fare Il summon Tocco a Questo Io Sto provando Aspetta che gli altri Votino Ah perché Per voto Adesso Ok Questa È la nostra Evocation Ah Che bello Giochiamo Contro Antitrettizi Ehi Eh ho capito Ehi Eeeh Colpa mia Cosa Dai Cosa Va bene Vai Si vena Boh Mi guaccia Gente che Mi sembra Ispetta Mi sembra Ispettona Va Boh Bella Vi Via Vena Minchia Minchia Venta Oh Eh skills Quali skills Io non le ho Scusa Vabbè Io sto prendendo Legnate In una maniera Devo Devo Tralizzare Cosa Il nucleo Uno Il K Dei nostri Credo O Dei loro No Due Tra di loro Eh ragazzi Mi aiutate Per favore No Vai Porca Vai Levati Che cosa Alexander Vai Arriva Alexander Arriva Una È la Costa Concordia È arrivata Abbiamo Come su Maniera Abbiamo la Costa Concordia Va bene Che cosa Che cosa Cosa Fiacchezza Cosa Vittoria Abbiamo vinto Non so perché Ma abbiamo vinto Abbiamo vinto Noi Ok Ok È arrivato Terzo Lato 900 Bello Abbiamo vinto E Bene Sono contento Sono a livello Due Yahoo Che bello E Cupone Hai appena Non tirato Memorie Ho tenuto Memorie Vabbè Centi No Non ne voglio Le memorie Tesori C'è il menu tesori No Non voglio C'è il menu tesori Anche Sono contento Mi fa piacere Vuoto Davia No Prossima Battaglia Vai Si combatte Un'altra E Aspettiamo Va bene Ma Aspettiamo Ancora Un po' Nel frattempo Che mi cerca Qualcuno Sto diventando Vecchio Vecchio Yeah Dai Ok Il matchmaking Ha un problema Io così A occhio Direi che Il matchmaking Ha un problema Io ve li sto lasciando Senza tagli Dico Perché io Gameplay Ve lo lascerò Probabilmente senza tagli Al massimo Siccome ho Salvato Ho fatto due pezzi Ho dovuto fare due pezzi Perché a un certo punto Non Perché a un certo punto Eh Cambia affetto Ok Ho fatto in due pezzi Dicevo Perché a un certo punto Eh Non mi trovava compagni Avversario Non li aveva trovati Io non facevo partire la partita E quindi Eh Ora Ora Come adesso credo Ah no Oh Che bello 6 4 5 Perché abbiamo i numeri Ci abbiamo i numeri di Maya Siamo Che cosa Ciao a tutti Eh Ciao a te Vabbè Interregiamo un po' le nostre Eh No Ehi No Io volevo fare Ehi No Ho sbagliato Ho selezionato una cosa A caso Va bene Ok No ragazzi Ragazzi Io proverò Ciao a tutti Probabilmente ci sono altre gente Che mi sente Possibile Mi dispiace Spero di non essere disturbo Agli altri della partita Però insomma Ragazzi Se vuoi commentare per voi Per il canale La voce devo mettercela Io sì Option Ok Dai Va bene Eh Eh No Non Non sarei così ottimista Vai Boh Bella Vai Io sì Io intanto Lanciare Bello Lanciare gente lontano Io Oh Bene Questo è uno bravo Io sto prendendo Legnate Vai Ma porca Eh sì Usa le skills E sto Bo Boh Vai No Sono KO Perfetto Pesca me la mia sconfitta Ok Ti torna Vai Ti stanno Facendo malissimo Oh porca Qua stiamo prendendo Legnate Eh qua stiamo Incrociando gente Che almeno un minimo Ci sa giocare Io Non So sempre a terra Vai Boom Via Vediamo 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 questo Bo Bo Porca Che co Non giocare per un cazzo Ma Altri Che è Shiva Eh Sì Mo che fa Vai Sconfitta Abbiamo perso Per qualche motivo Abbiamo perso Ah Ci hanno massacrato Sono arrivato Sesto Gli altri Non hanno tipo Neanche partecipato Va bene Eh Sesto Sesto Evocazioni In terzo Va bene Avanti Io direi Fanno un'altra Sì Sono contentissimo Ehm Prossima battaglia Vai Meniamo Ritmo di Final Fantasy Sperando Che l'attesa Non siano così lunghe Allora Io dicevo Prima Questo gameplay La mia intenzione È lasciarlo Senza tagli Anche Se comunque Ho dovuto Assemblare Più parti Un piccolo taglio Risulterà Ehm Verso Ventesimo Cioè Parti iniziale Il video Verso Ventesimo Minuto Per un solo motivo Ehm Cioè Perché Ho provato Ad andare La modalità Campagna Però Come sono entrato In modalità Campagna Si è stoppata La registrazione Probabilmente Perché la Playstation Impostata Impostata Proprio In maniera Tale Che Perché Registro La Playstation Comunque Impostata In maniera Tale Che Appena Arriva La campagna Boom Si blocca La registrazione E quindi Non puoi Registrare Per Ehm Per poi Insomma Mettere Il proprio Canale Eccetera La modalità Campagna E poi Quello Che si può Fare Soltanto L'online Nel battaglio Online E vediamo E che Pau Ehi Ehi Ancora Ehi 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 Sarebbe Bellissimo Poter iniziare Comunque Ok Ma questo Ma questo Questo che mi sembra Che vedo Che il gioiello Mi sembra Tricolore Dai Italia Italia Anche se Si chiama Bahamut E quindi Mi sembra poco Italiano Però va bene Dai Sì Bahamut Ok Bahamut Tutti hanno scelto Bahamut Io non so se Ah Pa 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 Dettagli alleati Dettagli avversari Io non Tanto Non ne capisco Ehi Ehi Ah Mi sembrava Quello Ho confuso La canzone Allora Ti Boh Bella lì Triviato Golle Boh Bella lì Ancora Poi lo sparo là Ehi No 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 Ehi 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 Toca E dai Non lo prendo Via Boh C'è un KO 2 KO Anzi 2 Boom Vai così Mena Mena Vai Boh No nino Porca Che succede Va porca Allora Vai Boom Vittoria L'abbiamo vinto Non so perché Ma abbiamo vinto Ah Io Ma chi Io l'ho fatto Io l'ho fatto Io ho vinto Io bravo Ma E' un gran figo Squall E' un gran figo Allora Io direi Allora Grazie Eh prego Allora Io direi Ta pa 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 Para Ah Ecco Mi fa piacere Aver guadagnato Le guille Allora Io direi Che su questa Schermata qua Direi che possiamo salutarci Possiamo salutarci E darci Appuntamento Insomma Al prossimo video Spero che questo Vi sia piaciuto Non avevo intenzione Di spiegare il gioco Nel senso Perché non l'ho capito Neanche io Ma lo so Mostrarvi Io che ci giocavo Però era bello Mostrarlo Detto questo Sono tutti quanti voi E alla prossima